E' arrivato il momento di svappare, svappo web! E' una persona molto conosciuta in paese perché è una insegnante delle scuole dell'infanzia, prossima a concludere la sua esperienza lavorativa, però nonostante tutto è molto apprezzata nel suo lavoro e ha trovato negli ultimi anni questa vena artistica che coltiva con passione e con entusiasmo. Dopo l'esperienza dell'anno scorso lei ha voluto fortemente riproporre una sua estemporanea e noi siamo veramente contenti di ospitarla per ragioni di affetto e di stima nei confronti di una persona che coniuga lavoro, famiglia e passioni vere, passioni semplici come possono essere quelle dell'arte, dell'arte concepita anche in maniera molto semplice ma con tanto amore, con tanta attenzione. Si tratta di una mostra che non ha un tema particolare, Olio Suttida e invitiamo caldamente i sanmartinesi e tutti i caudini che intendono venirci a trovare alla festa democratica di visitare la mostra perché ne siamo onorati e saremo anche lieti di presentare questa piccola occasione culturale e artistica che fa da bel contorno alla nostra festa.